Propaganda dello stato islamico nel dark web, perquisizioni della polizia e dei carabinieri in tutta Italia anche a Caltanissetta, così che nel capoluogo Nisseno, i poliziotti della Digos nel corso di una perquisizione hanno sequestrato telefoni e personal computer, operazione che ha riguardato ben 18 città italiane attraversando l'Italia dell'estremo nord e dell'estremo sud, sequestrati numerosi device, anche materiale e informatico, che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte della Digos e delle articolazioni della catena anticrimine ROS, perquisizioni per associazione con finalità di terrorismo internazionale disposta dalla procura distrettuale di Roma, che coordina le indagini dell'operazione congiunta che ha coinvolto 29 persone. L'operazione investigativa, iniziata lo scorso anno dopo la segnalazione dell'FBI statunitense, acquisita dall'antiterrorismo della Polizia di Stato e da ROS, è partita dall'esistenza di un sito di propaganda dell'ISIS, organizzazione terroristica presente nel dark web, a cui potevano aver fatto accesso internauti che si collegavano dal territorio italiano, oggetto del vaglio degli inquirenti circa 2000 indirizzi IP, riconducibili a visitatori del sito dell'ISIS, geolocalizzati in Italia perché associati a provider nazionali. Avrebbero visitato il sito in modo costante e continuo scaricato materiale di propaganda dell'organizzazione terroristica, ovvero video e immagini di propaganda raccolte dalla rivista Al Naba, apparato ufficiale da AESH e comunicati dall'agenzia di stampa AMAC, organo di diffusione delle principali operazioni di ISIS nel mondo, ma anche file audio della Casa Mediatica Al-Furcan e della radioemittente ufficiale di Isala Bayan. Si tratta di manuali di tecniche di combattimento e autoadestramento, oltre a file multimediali contenenti la storiografia del califato. Con una prima analisi dei dati condotta insieme dal personale specializzato del Servizio per il Contrasto all'Estremismo e al terrorismo esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, UCGOS e del Reparto Antiterrorismo del ROS, avrebbero individuato così 29 utenti reali in Italia nei confronti dei quali sono stati avviati ulteriori accertamenti da parte della DIGOS e del ROS, così dalle verifiche anagrafiche alle attività informativa di settore, servizi di osservazione e impedimento, fino a mirate attività tecnico-informatiche che hanno permesso di isolare le posizioni riferite alle 29 persone già emerse in indagini precedenti o segnalate dal Comparto Intelligence Nazionale, cioè di profili social contraddistinti da contenuti estremisti o con contenuti che rimandavano alla radicalizzazione.